Prima di introdurre questo pezzo, che ve lo facciamo sentire, non sentire, sentire, non sentire, perché? Perché c'è un problema, il problema è, voi, cioè voi, la gente in generale ha capito questo pezzo, segatori? Quelli che pagano 2 euro per scaricare la suoneria hanno capito questo pezzo? Il DJ e tutti i nomi autorizzati che hanno fatto il mix dance fuori dal tunnel, hanno capito questo pezzo? Bisturi ha capito questo pezzo? Voi l'avete capito questo pezzo? Questo pezzo lo dedico ad un altro ragazzo che sicuramente l'ha capito, a Giuseppe, fuori dal tunnel! Sono a mari! Sono a mari anche su di spazi! Sono a mari! 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 Voglio sentire! Tutte le tassi! Sono fuori dal tunnel, del divertimento! Sono fuori dal tunnel, del divertimento! Quando esco di casa non è noio, sono molto contento! Quando esco di casa non è noio, sono molto contento! Qui ti dice che sperì? Sei è inveni, fatta e porti, ti soffeni! Qualcuno su cui sei il bit. Venti, su chi prendi e ti sffendi, vedi! No, imfe automobile! mi senti tu, voglio prendi, senti il disco che se prendi presenti a, presenti a un tempo del divertimento essendo amico di Badameto, sono silenzio che fu di riparare musica, si rivolgendo su quel senso interno che è seguito, colato l'autorato, nell'autocampo resto faccia a faccia, con un'autocaccia, altro che l'autopasto fumando, domani di mano, domani di costruisco mi racciglio di una giornata, immagini della disco io mi stupisco, quando su esco un pacchetto che è francisco che dopo mi sia un pacchetto e non capisco come che se finisce a parlare il ciclo va nelle strade di San Francisco sono coli da TUNNLE, LL, LL, divertimento sono coli da TUNNLE, LL, LL, divertimento quando esco di casa mi doio, sono molto contento quando esco di casa mi doio, sono molto, molto contento mi piace il cinema parecchio adesso mi chiamano che il tuo facciamo le spiumanze da casa davanti alla stella sono anche brutta, tanto sfumano tanto fumo ciocco, mi sento stretto come quando il cappello pummo sfumbo di sanno, sei raro e tipo che tipo io? ho una tipo di seconda mano mi fanno da pub, da dischi e da divano mi rinnovano, questo è il mio ramo io? mi vuole affattare della tipo di rinno mi resta quel bolo senza più o meno non ho mai di potenti, sotto il lume non c'è paragoni basta una piena fermentazione ritrati la prima relazione per la nuova posizione ma ti intrasizza piena, vinto inizio d'indosciena, tutta la menù se gli spizzerà fin da cena serata a terra, bella cede, salame a pepe spese uoca, ss, se non bastasse sulle casse, serani i cori sono fuori dal tunnel bel divertimento sono fuori dal tunnel bel divertimento quando esco di casa mi annoio sono molto contento quando esco di casa mi annoio sono molto più contento la 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 Grazie!